Una mela al giorno non uccidere nessuno, raggiungi la mela dell'Eden prima di Cesare. Molto bene Cesare, passerò da quella finestra. Voglio la mela! Bellissimo. Dove cazzo passo? Così forse. È mia, non tua! Voglio la mela! Sapete che c'è? Via. Ti faccio male? Dammi la mela! È mia, non tua! Ecco, perfetto. Ma posso entrare dentro da qua? Ti faccio male? Dammi la mela! Non posso entrare, fantastico. Non tua! Voglio la mela! Ah, perfetto. Grazie per avermi spinto, raga. C'è di che? Faccio la decisione, sorellina. Sono io che si vedrà. Requiescati in pace. Requiescati in pace. Io so. So dove sta andando quel bastardo. A San Pietro. Al padiglione del cortile. Grazie. Là c'è il castello della porta principale. Come? E non devo uccidere nessuno. Ok, forse è di qua. Sì. Ricordo benissimo tutte le vie. Assassino! Diamine. Mi occuperò più tardi di te. Certo. Vabbè, tutto dritto. E invece no. Bene. Da dove cominciamo? Da qua. Mi raccomando, senza uccidere nessuno. Mi sa che... Sto sbagliando, sapete? No, invece no. Intanto ci siamo buttati. E lui scappa. Che palle è questa cosa di non dover uccidere nessuno? Vabbè, veramente due coglioni. Via. Via libera. Ciucciatemi le palle tutti quanti. Via. Prendete quel bastardo! Era il manifesto. Sapete dove ve lo mettete? Ma io faccio così. Non avete ancora capito che vi inculo così? E qua c'è da galloppare. Ma non dovrebbe mancare tanto. Uccidetelo! Bello, hai sguonato la spada per niente. Grande frate. Bello. Mi hai ferito tantissimo. Proprio nell'anima, guarda. E palle sta cosa di non dover uccidere nessuno? E devi dare le palle. E praticamente andiamo dove abbiamo cominciato. Dalla basilica di San Pietro. Rimane sempre il coso di non uccidere nessuno, vero? Così. Non sei ancora stanco, verde! È vero. Non posso arrampicarmi su San Pietro. Per quanto riesci a correre, eh? Allora, c'è da trovare un'alternativa. Un'alternativa valida. È con il tuo spirito. Prima che saltino... Prima che saltino! Non ti avvicinare, non ti avvicinare. Merda! Ma perché non uccidere nessuno? Che palle! Raggiù niente! Raggiù niente! Raggiù niente! Raggiù niente! Raggiù niente! Raggiù niente! Eh no, ma che palle però! Mi vengono a cerca! Sti obiettivi del cazzo! Chiaramente sto ancora cercando di capire. Vabbè, o fallirò. O fallirò. Non c'è una panchina, qualcosa. Forse ci si fa. Sì! Ci si fa! Ci si fa! Ci si fa! Ci si fa! Una mela al giorno! Una mela al giorno, raga! Una mela al giorno! No! No!